amici di battista 70 phone poteva forse mancare il bumper per iphone 6 no infatti eccoli qua abbiamo sia il nero che il bianco proviamone uno vediamo come sta il bianco andiamo ad agganciarlo si è giusto allora i tasti volume sono di lì agganciamolo qui sopra qui sotto ok si aggancia perfettamente i tasti rimangono ben accessibili si vanno a cliccare bene se sentite c'è clic perché questo dammi tra l'altro ai tasti funzionanti cosa spettacolare potete vedere copre completamente i lati lasciando accessibili appunto i tasti e la parte inferiore frontalmente da una buona protezione perché comunque è rialzato rispetto al vetro e idem la parte posteriore da un certo rialzo che consente di non appoggiare la cam direttamente al tavolo quindi se lo appoggiate così o così rimane comunque protetto l'estetica non non è alterata più di tanto perché comunque vedete rimane completamente tutto a vista con questo concluso un saluto da loris alis battista 70 per battista 70